Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Euromedia Research sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Fratelli d'Italia al 27,2%, Partito Democratico 20,3%, Movimento 5 Stelle 16,8%, Forza Italia Berlusconi presidente, noi moderati 8,7%, Lega Salvini premier 8,5%, Stati Uniti d'Europa 4,4%, Alleanza Verdi e Sinistra Europa Verde e Sinistra Italiana 4%, Poi abbiamo azione con calenda, siamo europei, Renew Europe 3,8%, Libertà Cateno De Luca 2,5%, Pace Terra Dignità 2%, altri partiti 1,8%, indecisi astensione 38,5%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.